Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo volume appena pubblicato da Rizzoli dal titolo Medioevo Immaginato di Alessio Innocenti che abbiamo nostro gradito ospite perché ci parli di questo Medioevo Immaginato che già nel titolo lascia intravedere cose molto molto interessanti, quindi come mia abitudine non rubo altro tempo e lascio la parola al nostro ospite. Prego Alessio, a te. Grazie, buongiorno Maurizio e buongiorno a tutti gli amici d'Italia Medievale, intanto grazie per questo invito e l'opportunità di fare questa chiacchierata sul Medioevo Immaginato. Infatti immagino come avrei intuito anche tu, già soltanto dalla copertina e dal titolo, l'argomento di questo libro, questo volume illustrato è il Medioevo inteso non soltanto come periodo storico ma proprio come epoca che è stata anche continuamente nel corso dei secoli successivi al Medioevo stesso, immaginata, sognata, spesso anche diffamata, calunniata, i famosi secoli oscuri, però continuamente noi continuiamo anche nei nostri prodotti commerciali contemporanei, film e serie tv, a rielaborarla, a prendere spunti, citazioni, quindi è un Medioevo vivo anche nella nostra vita quotidiana e la mia idea appunto nello scrivere questo libro era provare a raccontare un po' di questo, anzi di questi Medioevi immaginati, perché poi alla fine ne esistono tanti, non è un solo Medioevo immaginato, quello che scrivo ad esempio in un'introduzione è che alla fine l'idea che mi sono fatta è che esiste un grande complessivo mosaico, un Medioevo immaginato che è un po' la somma di tutti questi vari Medioevi che noi immaginiamo almeno dal momento in cui il Medioevo stesso, quello che chiamiamo Medioevo, è finito. Questa chiacchierata, volevo farvi vedere qualche immagine contenuta nel libro, ho preparato una breve presentazione così proprio perché è un volume illustrato e devo dire che grazie a Rizzoli che abbiamo fatto un lavoro enorme sia di ricerca e iconografica ma anche a livello di grafica e immaginazione perché l'idea di base era quella di fare in modo che chiunque sfogliasse questo libro dal detto ai lavori al semplice appassionato trovasse un'immagine che gli fosse familiare e da lì partisse un po' per questo viaggio, per entrare in questo viaggio che poi è un viaggio nell'immaginario alla fine, che confesso è il viaggio che ho fatto io, perché poi mi sono formato, ho studiato in realtà archeologia e storia medievale, mi sono occupato per lo più di Medioevo monastico, però mi sono reso conto poi che in realtà anch'io, io stesso, il Medioevo un po' che avevo immaginato appunto, che mi aveva affascinato, era non tanto e non soltanto il Medioevo storico, ma anche quello che poi noi abbiamo elaborato e viviamo, vediamo continuamente nel corso, anche nei nostri prodotti appunto, di quelli che chiamiamo prodotti di massa, dai film alle serie tv ai romanzi storici e questa è una delle prime immagini con cui apro il libro, se noi la vediamo infatti c'è qualcosa di familiare, sono cavalieri, dame, nello specifico in questo caso sono i cavalieri della tavola rotonda che stanno partendo per compiegare la loro più importante impresa, ossia la ricerca del Graal, alla sinistra, alla nostra sinistra ci sono l'ancillotto e Ginevra, c'è l'ancillotto che prende lo scudo da Ginevra che però quasi neanche vuole guardarlo. Ho scelto questa immagine perché questa è un'immagine che ritrae i cavalieri della tavola rotonda, però in realtà si tratta di un arazzo ottocentesco che viene realizzato da Edward B. Jones e William Morris, i due, quelli che noi chiamiamo ancora pre-Raffaelliti, anche se formalmente non sono più membri della confraternina dei pre-Raffaelliti, ma sono un gruppo di artisti che nell'Ottocento appassionati di Medioevo hanno rielaborato sia il mito arturiano che poi anche altri elementi della cultura medievale in questa forma, che secondo me ecco ci è probabilmente più familiare di quanto potrebbe essere un'espressione artistica medievale. Sono partito ecco ad esempio, uno dei primi argomenti che tratto nel libro è proprio il mito arturiano dal punto di vista sia dell'immaginario medievale, perché la cosa affascinante è che anche donne e uomini del Medioevo hanno elaborato il loro Artù nel corso dei secoli, quindi esistono tanti Artù per quanti secoli medievali esistono e al tempo stesso noi oggi quello che quantomeno probabilmente riconosciamo come più familiare è un Artù diverso, che è l'Artù medievale rielaborato nel corso dei secoli successivi. E il meccanismo del libro è proprio questo, partire da un'immagine contemporanea o quantomeno più vicina a noi, per andare poi a vedere questa che ad esempio è una delle più antiche raffigurazioni del ciclo arturiano che abbiamo tra l'altro in Italia, perché questa è una dei portali laterali del Duomo di Modena e ovviamente probabilmente c'è un po' meno, è già un'immagine diversa, per noi è già un po' più difficile leggerla se non siamo accompagnati nella lettura stessa e l'idea era un po' questa, cioè partire da immagini o prodotti contemporanei ed entrare all'interno del mondo medievale, capire perché noi siamo più, c'è più familiare un'immagine recente rispetto a un'immagine autenticamente medievale. È quello che oggi in ambito accademico viene definito medievalismo, ossia lo studio del Medioevo dopo il Medioevo, il modo in cui l'epoca medievale è stata rappresentata nel corso dei secoli, perché come vi dicevo anch'io, è un percorso che ho fatto anch'io, soprattutto dopo l'università, ho cominciato un po' a cercare di capire perché certe immagini o comunque certe espressioni artistiche del Medioevo mi affascinavano e ho capito che in realtà probabilmente mi affascinava non tanto e non soltanto il Medioevo storico, quanto anche queste continue riproduzioni. E vi faccio un esempio, ecco, queste sono due delle opere fantasy, dei cicli fantasy più celebri negli ultimi decenni, il Trono di Spade e l'Harry Potter, che se vedete hanno entrambi in comune quello che è anche un po' l'animale simbolo del mio libro di Medioevo immaginato, ossia il drago. E in questo caso ho fatto anche qui questo ragionamento. Noi oggi siamo abituati a considerare il drago, ovviamente come un animale fantastico, e ci viene spontaneo proprio associarlo all'età medievale. E in questo caso ho fatto un ragionamento, ho cercato di far capire a chi leggeva, accompagnare il lettore a capire che in realtà donne e uomini del Medioevo non avrebbero, non avrebbe avuto senso parlare di animali fantastici, nel caso del drago, ma anche di altri animali, come potrebbe essere ad esempio il basilisco, reso sempre recentemente celebre da Harry Potter, perché per loro erano animali che esistevano, ma non era qualcosa che il Medioevo, non è il Medioevo irrazionale che inventa l'esistenza di questi animali perché si tratta di uomini di scarsa preparazione culturale e quindi credono a qualsiasi cosa. E' qualcosa che il Medioevo eredita anche dall'età antica, anche nell'età antica si credeva all'esistenza sia di esseri di questo tipo, ma anche di esseri mostruosi, popolazioni mostruose che popolavano tutto il globo terraqueo. E quindi è qualcosa che il Medioevo eredita, però il discorso è che ovviamente poi lo fa proprio, dandogli anche una simbologia e un'interpretazione da un punto di vista religiosa, quindi ovviamente cristiana. E anche qui il meccanismo quindi era far vedere immagini, io parto in questo caso dai draghi del trono di spade in questo capitolo, per far vedere poi quelle che sono alcune delle, la presenza di questi esseri fantastici nella vita quotidiana degli uomini del Medioevo. Ovviamente sono stati scritti libri bellissimi sugli animali nel Medioevo e sulla loro simbologia, quindi la mia idea non era tanto, era semplicemente fare una breve sintesi di queste, delle conoscenze medievale relative a questi esseri fantastici e cercare di capire perché noi invece li inseriamo oggi in contesti fantastici. Cioè nei nostri cicli fantasy, ad esempio se non c'è un drago quasi, non può esistere il fantasy. Questi che vedete sono ad esempio due esempi, un drago dalla facciata della basilica di San Pietro a Tuscania, è il Viterbese, l'altro è il grifone che è diventato anche simbolo della città di Perugia. Sono quindi presenze per gli uomini e donne del Medioevo, erano presenze costanti, vivevano e vivevano la vita di tutti i giorni. Noi oggi invece noi uomini contemporanei li cataloghiamo semplicemente nella categoria del fantasy, quindi sono qualcosa che non esiste e automaticamente mentre li vediamo vediamo quindi un significato diverso. Al tempo stesso poi ho cercato di trattare argomenti. L'obiettivo anche con l'editore era cerchiamo di fare una cosa leggera e pop e quindi ovviamente ho detto, bene, se facciamo un capitolo sulle danze magabre, sull'arte magabre medievale, sulla morte, per alleggerire un po' il racconto. In realtà ecco, il capitolo sull'arte magabre è un altro esempio che ho scelto perché è una delle manifestazioni e delle espressioni artistiche che mi affascinano di più dell'epoca medievale e anche perché noi abbiamo vissuto il dramma della pandemia nel corso degli ultimi anni e in qualche modo, secondo me, cominciamo a comprendere meglio anche questo tipo di espressioni che per tanto tempo si pensava fossero estrettamente connesse alle epidemie di peste nera che hanno flagellato l'Europa, soprattutto a partire dal quattro dicesimo secolo. In realtà dal tema cambia medievale parte, sì, comunque si cominciano ad avere le prime espressioni già nei secoli precedenti, però ovviamente poi nel quattro dicesimo secolo l'esplosione di questi temi è anche legata alla diffusione di queste epidemie e quindi ho raccontato anche la mia esperienza personale, cioè rivedere queste immagini che io in passato guardavo con un occhio distaccato, come qualcosa che comunque non ti appartiene, in qualche modo riattivi il potere di queste raffigurazioni, questo è lo splendido trionfo della morte di Palazzo Abatellis a Palermo e quindi in qualche modo c'è anche un, come dire, ci riavviciniamo a donne e uomini del Medioevo con la mia convinzione personale però che questo tipo di espressioni artistiche ci raccontano non tanto di un'epoca ossessionata dalla morte quanto di un'epoca ossessionata dalla vita, perché sono sempre l'idea che se c'è necessità di ribadire continuamente questi, quelli che chiamano memento mori, ossia questo ricordati che devi morire, vuol dire che probabilmente donne e uomini del Medioevo erano molto attaccati alla vita, godevano della vita e quindi era necessario in qualche modo continuamente porre loro questi avvertimenti morali, quindi non tanto un Medioevo ossessionato dalla morte quanto un Medioevo ossessionato dalla vita, secondo me. E poi questo è il debito che dovevo in qualche modo saldare in assoluto perché io appunto la mia esperienza diciamo anche di riflessione su queste tematiche nasce sui social, ormai sono diversi anni che mi occupo di divulgare la cultura medievale, in particolare quella delle espressioni artistiche, ma anche appunto la letteratura, l'arte medievale, l'archeologia medievale e ho preso a prestito proprio per scegliere un nickname di facile identificazione i versi latini che chiudono il romanzo di Umberto Deco, il nome della rosa, nomina nuta tenemus, quindi proprio per approfondire gli studi di marketing perché sapevo che un nome in latino molto lungo tutto attaccato avrebbe favorito la diffusione, la visibilità del mio profilo. In realtà no, io perché nasco appunto, una delle espressioni culturali del Medioevo che mi affascina di più è il Medioevo monastico, io mi ci sono avvicinato, uno dei primi ricordi è proprio quello del romanzo di Umberto Deco che ho letto comunque già in età universitaria e inevitabilmente questo tipo di rappresentazione, comunque questo tipo di ricostruzione, sia proprio che riguarda il romanzo, come vedete accanto alla locandina del film che conosciamo un po' tutti, che hanno poi, è un po' il tema che io racconto continuamente nel libro, i film quanto impatta dal nostro immaginario visivo rispetto a qualsiasi altro tipo di forma artistica, sono quelli che poi proprio veramente plasmano il nostro modo di pensare e immaginare una certa epoca e un certo contesto, è inevitabile che il nome della rosa, che riprende un po' quelle che erano le caratteristiche del romanzo gotico sette-ottocentesco, influenza anche il nostro modo di pensare il mondo monastico e quindi in queste cose ho lavorato di opposizione, cioè ho detto partiamo da l'atmosfera del nome della rosa, appunto da romanzo thriller giallo, da questa ambientazione comunque un po' cupa e oscura che è soprattutto più del film, proprio del film tratto dal romanzo, veramente con questi monaci dai volpi grotteschi, veramente da romanzo gotico e facciamo invece una cosa diversa, entriamo nei chiostri e negli scrittori medievali, quindi sfogliamo qualche manoscritto medievale ed entriamo in qualche luogo, appunto in qualche chiostro, perché la mia idea era far vedere che in realtà questi luoghi erano luoghi di cultura e di luce e proprio anche di immagini, quello che vedete è il chiostro di Monreale che penso sia in Sicilia, vicino Palermo, penso sia il più bel chiostro medievale che voi possiate mai visitare, io che sono appassionato di chiostri anche mi piace molto fotografare i capitelli che compongono i chiostri, qui mi sono dovuto arrendere perché stiamo parlando di centinaia di doppie colonne, capitelli figurati, è veramente un'incidoria, un libro illustrato posto su pietra, ed è vero che ovviamente in Sicilia non vedremo mai un chiostro immerso nella nebbia, quindi un'atmosfera così invernale gotica, però l'idea era proprio questa, questi erano luoghi dove si poteva, non erano, è vero che concettualmente sono luoghi lontani dal mondo, il chiostro è fondamentalmente il claustrum, il luogo chiuso, lontano dal mondo esterno, ma attraverso le immagini che erano presenti sui capitelli e poi verranno riprodotte nei manoscritti o viceversa, quelle che venivano viste nei manoscritti e riprodotte anche poi sui capitelli, c'era questa possibilità invece di ampliare, di esplorare, di conoscere, anche di ampliare la propria immaginazione, cito anche il celebre passo di Bernardo di Caravalle che se la prende proprio con le sculture nei chiostri perché dice a cosa servono queste sculture, queste bestie immonde che vengono raffigurate se non a distrarre, ecco l'idea era proprio questa, mi affascinava questa idea che noi probabilmente abbiamo un'idea del tutto del medioevo monastico estremamente, magari ecco di un mondo estremamente chiuso, invece bastava semplicemente camminare anche nei corridoi di un chiostro e si poteva veramente dar spazio alla propria immaginazione, lasciare spazio alla propria immaginazione e qui faccio vedere anche un dettaglio di un di questi capitelli di Monreale, tra i simboli degli evangelisti c'è uno dei simboli ecco, una delle immagini che proprio il medioevo delle figure mostruose che il medioevo elabora, ossia le sirene che le eredita dal mondo antico, dal mondo credo, però rielabora a modo suo, quindi ho dedicato anche un piccolo spazio di approfondimento alle sirene in questo libro, che funziona anche così, oltre ai capitoli che raccontano il tema trattato appunto del medioevo monastico, dei chiostri e dei manoscritti abbiamo aggiunto, proprio collegandomi a una delle rubriche che da anni portavo avanti sui social, ossia un mingo di medioevo, dei piccoli approfondimenti, ad esempio in questo caso come nasce la raffigurazione della sirena intesa come donna-pesce rispetto alla donna-uccello che era la raffigurazione tipica dell'antichità. E secondo me ecco, questo è il passaggio successivo, perché noi siamo portati a pensare al mondo medievale anche in maniera oscura, o comunque soprattutto in contesti come quello del medioevo monastico, ci verrebbe spontaneo pensare subito a ambientazioni da nome della rosa, proprio perché quel tipo di produzione culturale ha le sue origini nelle prime rielaborazioni che vengono fatte quando si comincia a riscoprire l'età medievale, noi sappiamo che quando finisce il medioevo gli umanisti dicono subito noi siamo l'età moderna, ci ricolleghiamo al mondo antico, siamo due momenti di luce, in mezzo c'è uno spazio buio da nascondere, da dimenticare che è proprio l'età di mezzo, il medioevo. Però quando in realtà si comincia a riscoprire il medioevo tra il fine del Settecento, gli inizi dell'Ottocento, il diciottesimo, il diciannovesimo secolo, anche in reazione a quella che è l'illuminismo, quindi l'estrema importanza data alla ragione e alla razionalità, si cominciano a riscoprire le rovine del medioevo, le rovine concrete del medioevo, le si comincia a mettere, anche a riprodurre, a creare dei falsi, delle false rovine da mettere nei giardini dei nobili, ma al tempo stesso si vanno a vedere, si vanno a riscoprire delle rovine, ad esempio delle grandi abbazie cistercensi, perché quelle rovine trasmettono qualcosa di diverso. Questa è una delle opere, una delle mie opere per dire in assoluto, questa è l'abbazione del Querceto di Caspar David Friedrich, siamo intorno, siamo negli anni dieci del diciannovesimo secolo, quelle sono le rovine di una ideale abbazia cistercense, il quadro è molto scuro, però stiamo in realtà assistendo a un funerale, c'è una protezione di monaci che porta la barra di un defunto all'interno di queste rovine dove c'è un crocifisso. E qual era il senso perché ho scelto questa immagine? Questo è il capitolo dedicato proprio alla riscoperta romantica del Medioevo, che è in parte un percorso che ho appunto compiuto anch'io, perché io nasco in realtà, mi sono occupato di rovine medievali, e ha sempre avuto questa netta percezione che ci fosse una differenza tra quello che mi trasmetteva la rovina antica romana, ad esempio, e la rovina di un edificio medievale che potrebbe essere soprattutto quella di un castello oppure di una abbazia, di un complesso religioso. E tutto nasce anche da qui, da come venivano percepite queste rovine, anche perché nel momento in cui vengono riscoperte si cominciano a scrivere i primi poemetti, le prime poesie che poi sfoceranno nei romanzi gotici in cui si immagina di ambientare, in cui i poeti e scrittori romantici si immaginano di assistere, di vedere i fantasmi dei monaci del Medioevo che abitano ancora queste rovine. Quindi si crea tutto quel filone gotico, da qui siamo sempre nello stesso momento in cui vengono pubblicati i primi romanzi gotici, il castello di Otranto, il monaco di Dewey, che in qualche modo influenzano anche il nome della rosa di Umberto Eco, però un po' tutto nasce da questo, ed è un filone che poi arriva fino agli horror contemporanei, secondo me, perché se voi guardate questo quadro di Friedrich sembra proprio l'inizio, potrebbe essere benissimo l'inizio di una serie tv horror thriller, e questo inevitabilmente ha modellato il nostro immaginario, senza dimenticare che ad esempio Bram Stoker, quando scrive Dracula, cammina proprio per trovare ispirazione tra le rovine dell'abbazia Cisterciense di Whitby, il luogo, il porto dove fa prodare Dracula poi in Inghilterra. Quindi un po' si crea questo meccanismo in cui il Medioevo che viene riscoperto è anche un Medioevo in questo senso oscuro, non tanto oscuro perché è epoca di ignoranza, ma perché è epoca in cui era possibile, si chiedeva fosse possibile, immaginare l'elemento irrazionale. Quando Walpole scrive Il castello di Otranto dice io scelgo il Medioevo perché devo ambientare il mio romanzo che parla anche di eventi soprannaturali, se non lo avessi ambientato nel Medioevo non sarebbe stato credibile per noi uomini contemporanei, in quel caso uomini del Settecento pienamente illuministi. E questa è la conseguenza successiva. In pieno XIX secolo le nostre città, sia in Italia che in tutta Europa, si riempiono di questa architettura e questa arte neo-medievale, ossia si cominciano, nel momento in cui si riscoprono le testimonianze materiali, i grandi edifici del Medioevo, li si ristrutturano e si intrinano. A sinistra vedete una foto, proprio una foto che avevo scattato io a Parigi, quella che penso tutti, chiunque sia stato a Parigi prima dell'incendio di Notre Dame, salendo sulle torri della cattedrale, questa foto la deve scattare perché si vede la città con i celebri gargoyle. Però ecco, in realtà anche i gargoyle di Notre Dame sono una riproduzione ottocentesca, un'invenzione ottocentesca dell'architetto francese Villele Duke, uno dei più grandi studiosi dell'architettura medievale, perché siamo in una fase in cui si pensa anche questo, ossia l'edificio medievale incompiuto, comunque da restaurare, lo posso integrare io, uomo dell'Ottocento, e porto a compimento quest'opera. Però che succede? Riescono talmente bene a impattare sul nostro immaginario queste sculture, queste opere, questi edifici, lì poi si crea anche quello che racconta nel libro, la sovrapposizione tra il romanzo di Hugo, Notre Dame de Paris, le sculture di Villele Duke, che noi oggi se pensiamo ai gargoyle, pensiamo ai gargoyle di Notre Dame, sono in realtà poi formalmente delle chimere, ma in realtà anche quelle sono una creazione ottocentesca, qualcuno che prima di noi ha immaginato letteralmente il Medioevo. Così come vedete la facciata del Duomo di Firenze, è uno degli esempi di edificio medievale che viene completato nell'Ottocento in stile neomedievale. Oggi probabilmente migliaia di turisti che visitano Firenze, ma anche vedono, non so, la facciata della cazzerale del Duomo di Milano, non immaginano, ecco, che pensano magari di vedere un edificio medievale, stanno vedendo in realtà un edificio di origine medievale che è stato completato nell'Ottocento. Il meccanismo è questo, l'età medievale a un certo punto ha cominciato ad affascinare architetti, scrittori, scultori, artisti, che hanno rielaborato questo periodo storico. E' quello che vi dicevo prima, il cosiddetto medievalismo, che era una disciplina molto diffusa in un ambito anglosassone, negli ultimi decenni però ormai è studiata, molto studiata anche in Italia, in ambito accademico. Io semplicemente ho fatto il mio percorso personale, che è quello che racconto nel libro, ma oggi è una disciplina che viene appunto, ci sono anche dei progetti europei che portano, che finanziano le ricerche in questo ambito, perché anche qui stiamo studiando l'immaginario, diciamo, dell'epoca, di epoche più vicine a noi, ma riferite sempre a un modo di rielaborare l'epoca medievale. E che succede? Molto spesso serie tv e film attingono più a questo immaginario che non al medievalo vero proprio. E poi arrivano loro, questi sono un po' tutti, chiunque ha letto, chiunque ha sfogliato il libro un po' l'ha capito che inizialmente se avessi dovuto forse avrei fatto un libro su pre-Raffaellini, perché loro, ecco, ho aperto il libro con una loro immagina, una loro opera, questo gruppo di, all'epoca, di giovani ragazzi nell'Inghilterra vittoriana, che fanno una cosa che per noi oggi sarebbe quantomeno di difficile comprensione, ossia vogliono contrapporsi alla modernità, alla rivoluzione industriale, alla Londra che stava cambiando con le ciliniere delle fabbriche e la vita alienante degli operai, e propongono che cosa? Di tornare al Medioevo. Noi oggi se dicessimo, se io dicessi voglio tornare al Medioevo, verrei visto probabilmente come un estremo reazionario, per loro invece il Medioevo assume un valore rivoluzionario, anzi è un'epoca positiva in cui si viveva sicuramente in condizioni migliori rispetto alla modernità, e addirittura si propone di tornare al Medioevo. È un'utopia, ovviamente, un'utopia, un tentativo poi di tornare al Medioevo e rivoluzionare il mondo contemporaneo tramite l'arte. E questo gruppo di giovani artisti, i più celibili Dante Gabriel Rossetti, John Everett Milley, William Hunt, si riuniscono in questa confraternita, che ha inizialmente qualcosa anche di oscuro, perché appunto firmano i loro dipinti solo con le iniziali della confraternia pre-alfadina, che sono PRB, e dipingono molti di questi, e realizzano molte opere a tema medievale, si rifanno soprattutto a un Medioevo letterario, che è quello delle opere di Shakespeare, di Dante, di Chaucer, e quindi riescono però in questo modo, danno una loro interpretazione del Medioevo, ed ha talmente successo, non tanto o non soltanto a livello artistico, quanto proprio di impatto sull'immaginario collettivo. Qui vedete le due opere a sinistra, c'è il primo anniversario della morte di Dante, realizzava Dante Gabriel Rossetti, e già dal nome potete capire l'importanza che dava al tuo padre italiano. Dall'altro Rossetti era figlio di un esodo italiano, Gabriele Rossetti, che insegnava proprio italiano, ed era uno studioso di Dante a Londra, e l'altro è uno dei quadri più celebri dell'Ottocento, è l'Ophelia di John Everett Milley, e ovviamente noi magari non ci pensiamo mai, anche le opere di Shakespeare sono in realtà opere che parlano di un Medioevo letterario, e il loro impatto è talmente grande, vi faccio vedere qualche immagine, perché sicuramente le avete viste sulle copertine dei libri, perché sono effettivamente, oltre ad essere esteticamente estremamente affascinanti, hanno influenzato tutta una generazione poi di artisti illustratori che hanno realizzato sia i volumi illustrati di Fiab, ma arriveranno poi anche a collaborare, per dire, con Walt Disney, quindi realizzare quei lungometraggi animati che veramente hanno influenzato in maniera decisiva al nostro immaginario. Qui vedete altri due esempi di interpretazione personale del Medioevo, perché a sinistra c'è Beata Beatrix, ossia la raffiduazione di Beatrice, che sta immaginando la sua morte a un divento di Dante Gabriel Rossetti, però Rossetti ritrae in questo dato Beatrice come la sua moglie recentemente scomparsa, Lizzy Siddal, come Beatrice, e lui stesso quindi si immedesima nel Dante della Vita Nova, e come Dante aveva perso Beatrice, Dante Gabriel Rossetti perde Lizzy Siddal, e quindi c'è un'immedesimazione anche veramente personale con Dante. E sempre a destra Rossetti, questo è uno degli ultimi dipinti che realizza, è una Giovanna d'Arco, in questo caso va alle sembianze di quella che è stata la sua ultima ossessione, ossia Jane Morris, che ritrae in numerose vesti, molto spesso anche medievaleggianti, però ecco questo tipo di raffigurazioni avranno un enorme impatto sul nostro immaginario visivo. un altro quadro celebre, ecco questo di John Waterhouse, la Lady di Charlotte, un altro personaggio che avrà una grande diffusione nell'Ottocento, era un personaggio medievale che proprio in Inghilterra vittoriana viene rielaborato, c'è un celebre poemetto di uno dei più importanti poeti vittoriani, Alfred Tennyson, che racconta la storia della Lady di Charlotte, non ve la spoglierò, perché racconto anche appunto in approfondimento del libro, anche io la trovo una storia estremamente affascinante, che vi dà un'idea di come venisse rielaborato anche il Medioevo e realizzano e porta a realizzare opere di questo tipo. Sia a considerare che siamo già nella seconda madale dell'Ottocento, nel giro di pochi decenni già ad esempio a Parigi ci saranno le avanguardie artistiche, mentre nel mondo, soprattutto nel mondo inglese, si continua ancora a rielaborare, a realizzare dipinti a tema medievale, è inevitabile che qui subentra, mentre i prelaffelliti cercano, avranno cercato quantomeno sperato di riportare, tornare al Medioevo, qui il Medioevo diventa nostalgia, diventa qualcosa del passato, un'epoca del passato che ormai noi stiamo soltanto rimpiangendo, è quasi veramente un rifugio dalla modernità. E qui vedete, infatti, qui sono artisti, Key Nielsen, Arthur Rackham, che illustrano libri di fiabe, e si sono ovviamente, sono ispirati alle opere di pre-Raffaeliti e quando realizzano, illustrano le fiabe dei fratelli Grimm, queste sono due riflessioni, due fiabe dei fratelli Grimm, vedete che succede, quello che poi è un meccanismo che è stato già ampiamente studiato in ambito accademico, nel momento in cui le fiabe assumono carattere medievale, non tutte le fiabe, anzi, molte delle fiabe non hanno origini medievali, si tratta di temi che vengono riproposti ciclicamente nel corso dei secoli, però a partire dall'Ottocento sembra quasi spontaneo che molte di queste fiabe, soprattutto se c'è di mezzo un re, un principio, una principessa, un castello e un drago, di ambientarle in un Medioevo che diventa, ovviamente non è un'epoca storica, ma è qualcosa, è un'epoca atemporale. Qui vi faccio due esempi, vedete, cioè ad esempio, in questa è una delle illustrazioni migliore di più di Key Nielsen, in questa fiaba dei fratelli Grimm, in cui c'è un personaggio maschile che combatte un drago e nella fiaba dei Grimm si racconta di come ci fosse una donna prigioniera di una chiesa e guardate Key Nielsen come immagina questa chiesa, la immagina con questa sorta di scrigno gotico dove intravediamo la donna prigioniera mentre al di fuori c'è in corso lo scontro con il drago dalle Sette Teste. Stessa cosa con Artur Rackham che diventerà, che raffigurerà i castelli anche lì, non tanto medievali ma i castelli costruiti nell'Ottocento, ispirati a quelli del Medioevo, che apriranno ogni fiaba di Rackham che poi al tempo stesso diventerà anche uno dei simboli dei film Disney. E infatti questa, io chiudo il libro, io sono partito con l'Artur pre-Raffaellita e l'Artur medievale e il libro lo chiudo nell'ultimo capitolo dedicato un po' a questo medico fiabesco con questi due esempi. Da una parte la bella tormentata del Bosco, vi basta anche già guardare le copertine queste sono le copertine dei DVD. Vedete che a sinistra sembra quasi di rivedere quello che dicevo prima quell'ambientazione gotica, scura, infatti la bella tormentata del Bosco è forse il più gotico dei film Disney anche sul termine gotico nel libro rifletto molto perché è un termine dalle molteplici significati e dall'altra Shrek, Shrek che paradossalmente è l'ultima rielaborazione che viene fatta di questo universo fiabesco e medievaleggiante perché appunto Disney ha veramente impattato in maniera decisiva sull'immaginario di generazioni di persone in tutto il mondo con la bella tormentata del Bosco ma anche con quelle opere più prettamente medievali come Robin Hood o La Spada nella roccia Shrek è un po' il punto di arrivo che prende un po' in giro l'universo fiabesco Disney però se vedete anche in Shrek Terzo che cosa succede? Oltre agli personaggi delle fiabbe vengono inclusi anche Artù e Merlino e quindi si chiude un po' il cerchio, ossia si mescola questo medievo, il medievo delle fiabbe con il medievo storico e la cosa che mi interessava è che adesso in America gli ultimi studi che sono stati fatti, anche gli ultimi sondaggi condotti sulle generazioni più giovani che alla domanda qual è il primo ricordo del medievo rispondono Shrek e quindi ovviamente questo ci fa capire che in realtà quanto questo tipo di espressioni artistiche, i film, le serie tv impattano sul nostro modo di pensare e immaginare il medievo e io mi fermerei qui Maldizio è davvero un viaggio fantastico è la parola giusta assolutamente sì perché dimostra come questi aspetti non solo gotici perché poi il gotico diciamo che lo si concepisce come la parte più buia e scura del periodo medievale ma poi il medievo è una fonte di ispirazione incredibile perché è un periodo che ci ha lasciato un'eredità complessa, ricchissima piena anche di colore e di chiari scuri quindi c'è sia l'uno che l'altro di opposti e davvero questo libro rende bene questo tipo di messaggio ed è sicuramente anche utile per avvicinare le persone allo studio, alla conoscenza del medioevo reale che poi si scopre essere in parte simile ma in gran parte diverso da quello che immaginiamo attraverso questo tipo di immagini e di visioni io sono molto contento che tu abbia presentato questo libro e che tu lo abbia pubblicato ringrazio e quindi ti ringrazio davvero tanto ai nostri videoascoltatori ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove troverete insieme a questa tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato fino ad oggi quindi grazie ancora e a presto spero grazie Maurizio, grazie a te grazie a te